L'obiettivo principale era quello di perdere un po' di peso, innanzitutto, dovuto al fatto proprio fisicamente, anche perché avevo bisogno, avevo avuto anche un piccolo intervento di stente, ma avevamo fatto ancora un paio di anni fa e c'era la necessità di calare, perdere peso. Trovato questo ambiente abbiamo cominciato, i ragazzi qui mi hanno seguito e facendo veneno un paio di volte alla settimana sono riuscito a perdere veramente diversi chili, infatti fino a questo momento sono circa 15 chili da marzo. Grazie anche, aiutato anche dal dieta, più che dieta direi consigli alimentari che non mi hanno assolutamente pesato per nulla e sono stati anzi, è stata una gran bella scoperta anche questa unione, palestra e consigli alimentari che mi hanno portato a ottenere questo risultato e far cosa? Sicuramente se si riesce a perdere ancora qualche chilo e poi soprattutto mantenere questo equilibrio.